If I hit the switch, I can make the ass Drop, stop, drop and pop it And after you pop it, please put it in my pocket Look here, I need a spot Hey là ragazzi, sono sempre io il vostro Dicorei25 Ed eccoci qui su Sinusia ragazzi Questa serie che avevo abbandonato moltissimo tempo fa Cioè abbandonato, avevo momentaneamente stoppato per dedicarmi al universe Visto che mi serve qualche video da mettere immagazzinato Nel caso non abbia tempo di registrare perché è un periodo un po' così Ora sono tornato su Sinusia Ho il minimo accessario dietro però io la potion of regeneration la poserei Perché voglio rischiare il tutto per tutto proprio Quindi mi metto la glowstone nell'inventario E che dire, partiamo e no, non è di qua E andiamo all'avventura dell'ultima lana del primo dungeon Cioè del primo intersezione Proviamo a vincere questa prima intersezione Non mi ricordo neanche io dove cavolo eravamo arrivati Quindi mi scuserete ma sarà un po' un casino Perché non mi ricordo dove eravamo arrivati Ok però direi di non sprecare il piccone, va bene Allora Questa stanza era stata purificata Purificata Qua mi sa che era arrivato Ok vediamo qua Ecco qua no Ok qua c'è uno spawner Distrutto anche questo Qua c'è un letto Vabbè si è rotto Scusate un attimo ragazzi Devo controllare una cosa Ok riprendiamo Eccoli che cominciano a sentirsi i primi mosti Qua non c'è nulla Quindi purifica da un'altra stanza Devo purificare da un'altra stanza Mamma mia guardate quanti creeper Devo liberare una stanza alla volta Io direi di prendere questo carbone Che potrebbe sempre farci utile Potrebbe sempre farci utile E' bellissima Vabbè poi ritornerò ragazzi Aspettate che impugno la spada Perché non si sa mai Ecco uno di questi qua Me li ero dimenticati Porca miseria Porca miseria C'era un creeper dietro Entriamo subito qua dentro Notting null 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 Vabbè non c'è niente qua Perfetto ragazzi Però io veramente non so più Ok qua è tutto libero Bisogna per forza ignorarli questi mostri Entriamo qua Questo cos'è? E' un po' inquietante come stanza Però non c'è niente Entriamo in quella di fronte Dovrei farmi delle torce Perché non ho più Eh io non ho più niente Allora facciamo una cosa Ehm vabbè Facciamo così Per riconoscere che Ho purificato la stanza Vedete di morire Stronzi Ecco che muore Ecco che muore Sono morto Perfetto Niente Ehm Prendiamo altra roba A caso Due panini E una spada E proviamo a recuperare Almeno la roba che ho perso Aspettate che ho visto delle torce Si eccole Di là no Di là no Di qua Perfetto Proviamo a recuperare La nostra roba Ragazzi è un delirio Mi ero scordato di sinusia Ma veramente è un incubo Questa mappa è un incubo Mi ero scordato della sua demenza Della sua assurda Complessità E ricordate che vi avevo detto pure Che era stata pure semplificata Ok per ora non si vedono i cecchini Sono quelli che ti fregano Quelli che sparano Ok ho recuperato tutto No quasi tutto Perfetto 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 No 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 Non posso morire Io ancora non capisco da dove escono questi stronzi Ah dal tetto Alcuni sono zombie normale Alcuni sono zombie con lo spawner Porca misera Sono troppi Sono troppi Devo riorganizzarmi ragazzi Mi ero scordato Di questa Cioè Di quanto fosse demenziale Questa mappa ragazzi È un casino È un casino Io devo riuscire a Ad arrivare il più avanti possibile Raccogliere la lana Poi non mi frega niente Di quello che c'è in questo dungeon La sfiga ragazzi È che Nell'lucky block Che mi ricordo Che abbiamo aperto All'intersezione All'intersezione Non abbiamo trovato Praticamente niente Ok Guardate quanta esperienza Io devo ignorare i mostri Devo andare avanti Sennò qua non finisco più No fammi entrare stronzo Devo togliere innanzitutto queste pedane Perché così No Ah sì sì C'è dietro Ok Porca miseria Scusate ragazzi Non parlo tanto No 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 Mezzo cuore Mezzo cuore No È finita Eh infatti Sono morto Porca miseria ragazzi Non so più Cosa pensare Ok Prendiamo Un'altra spada E proviamo Alla riscossa di nuovo Io ragazzi Non Veramente Non so più cosa pensare Laga anche Pazzescamente Questa pioggia di merda Scusatemi Ma non so cosa pensare So che Dictory Che Ultimamente Mi sta facendo un po' Le bizze Dictory Nel senso che mi dà Veramente un fastidio assurdo Però ragazzi Cosa ci posso fare Sto cercando di rimediare In questi giorni Vedrò altre cose Altri video Magari Che mi possano aiutare Ma per ora Mi devo accontentare Così ecco Tutta la mia roba Perfetto Ora devo andare Nella stanza di fronte Perché qua Non c'era niente Anche qua Pare che non ci sia nulla Perfetto 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 Come prima cosa Dire di piazzare Delle torce Qua in mezzo Ok qua Dovevo entrare Sì Io voglio bonificare Tutto ragazzi Non voglio lasciare Il bordello Perché poi Voglio esplorare Per vedere se c'è Un lucky block Porca puttana Stronzo di merda Dai che distruggo Lo spawner Sì cazzo Sì Scusate Non devo Cercare di moderare Le parolacce Mi è già stato detto Per chi di voi Magari Che sarà Appena iscritto Vi invitano Andarvi a guardare Gli episodi vecchi Di Sinusia Per farvi Un quadro completo Di questa mappa No Mi è finita la spada No vabbè Ma sono troppi Ma come faccio È impossibile Curiamoci immediatamente Devo mangiare Devo curarmi Ragazzi Io direi di uscire Dal muro Ma Per ora Facciamo una cosa Del genere Così se entrano Non mi possono Fare niente Siamo a 8 minuti Circa di video E mi rendo conto Che ho risolto Veramente poco Sono uscito Solo a Diciamo Cioè Dico Bonificare Purificare 4 stanze Se non erro Ma ci sono troppi Spawner ragazzi Perché vengono Dal piano di sopra Quello è il problema E io dovrei Recuperare vita Però Usciamo perché Sennò Non esco più No siete troppi Siete troppi Facciamo una cosa Porca miseria No ve le dovete andare Non mi dovete rompere Le palle Proprio Ok Così non possono Passare Io dovrei tornare Urgentemente indietro Perché No Silverfish Mi sono scordato Che erano silverfish Questi blocchi Eh sono morto Ragazzi Sono morto Porca Mi ero scordato Che erano silverfish Ragazzi Perché il creatore Non solo Si è sbizzarrito Mettendo Un casino Di spawner E cose così Ma ha messo pure Il silverfish La pioggia qua Che rompe le palle Porca miseria E' fastidiosa Ragazzi Perché già Sono in crisi Che Dictory mi lagga In più La porta Eh la porta In più la pioggia Mi porta lag Allora ragazzi Dobbiamo entrare Nella stanza In cui c'è un buco fuori Perché io devo riprendermi Assolutamente Tutta la mia roba Ok qui E qui che c'è da rientrare Si se non ti laghi Non ti blocchi Ok Eh io devo distruggerlo Ragazzi qua Anche se escono i silverfish Porca miseria Ok questo silverfish qua È bloccato Morti morti Devo recuperare vita Scusatemi Non sto facendo niente di che Ma quel niente di che Che sto facendo Mi sta facendo impazzire Ho 3000 spade Nell'inventario Che veramente Non so Potrei aprire uno spadaio Che non è niente Non esiste Ok Io direi di tornare indietro E farmi No vabbè dai proviamoci Tutto per tutto Proviamo No ma quanti siete No ma quanti siete Illegale Illegale Non è possibile Una roba del No ma vabbè Ma quanti siete Cioè scherziamo Qua piove ancora Porca pu Piove ancora E quindi qua C'è uno zombo di merda Devo buttarlo giù Perché non potrei mai ucciderlo Dormiamo Che mi sono rotte le palle Della notte Dormiamo e facciamo passare il giorno E poi andiamo a recuperare La nostra roba Lo sapevo che questo stronzo Mi attaccava Scusate ragazzi Cerco di moderare al minimo Ma a volte Proprio ti lo fanno uscire Dalla bocca Non ci sono altri stick Non c'è un piccone Porca mia Eccolo C'era già una spada Vabbè Ok Direi di Avventurarci E provare A recuperare La nostra roba Ma Porca miseria Non so cosa pensare Perché è veramente enorme Cioè Lì è pieno di Allora facciamo una cosa Io devo salire In altezza E qua sopra Che mi frega Guardate tutti gli spawner Allora la stanza qual'era No non era questa No non era questa Era questa Ok Così No Non mi può raggiungere Perché c'è il letto Porca Porca Madonna ragazzi Madonna Ero riuscito Distruggendo il letto A non farli salire Però Sono saliti lo stesso Scusate Lag Scusatemi ragazzi Non so più come dirlo Ma Adesso Cercherò Io non concludo L'episodio Finchè non ho recuperato La mia roba Appena ho recuperato La mia roba Posso anche chiudere L'episodio Anche se Magari non ho fatto Veramente nulla Anzi senza magari Non ho fatto Veramente nulla Ma Devo farlo Ragazzi Devo farlo Qua c'è un ragno Di M Il problema è che Eh se vabbè Ma quanti arcieri ci sono Ma state scherzate Io trovo dritto Perché è impossibile Ok Sono sopraelevato Non possono raggiungermi Adesso la cosa principale Sarà Di distruggere Questo spawner Mettiamoci Il piccone Nell'inventario Devo approfittare Di Del tempo Di non spawn Ok Ma come hanno fatto Salta No ma dai ragazzi Comunque Ho distrutto Lo spawner Cosa importantissima Ho distrutto Quel maledetto Spawner Non ho più armi Credo Sì C'è un'altra spade Ormai c'ho 2000 spade Cioè ragazzi Ho 2000 spade Quando andrò a recuperare La mia roba Perché la recupererò Ragazzi State pure certi Che la recupererò Quando recupererò La mia roba Vedrete che ho 2000 spade Va a cagare Tu dai Ti ignoro proprio Adesso resta solo Il fatto di entrare E Seccarli Seccarli E prendere Tutta la mia roba Io devo salire qua sopra E distruggere gli spawner Questo episodio Non credo che ci riuscirò Ok Seccato C'ho un casino di frecce Ma non ho l'arco Ok questa è la stanza La benemerita stanza Perfetto Dovrei aver recuperato Tutta la mia roba Io direi di fare Una cosa furba Ragazzi Aspettate Che mi tolgo Tutte ste spade All'inventario Mi metto la casacca Anche se non serve a niente No Mi sta a prendere un colpo Ok Ora noi usciamo Noi Io Esco Scappo indietro Me ne torno a casa mia Questi qua non me ne frega proprio niente di loro Me ne torno a casa mia Me ne torno a casetta mia Perché veramente Devo posare un po' di spade In una chest E Facciamo un po' Rezzo conto dell'episodo Ragazzi Mi dispiace aver fatto tutto questo casino Non ho risolto completamente Anzi Proprio per niente Nulla Non ho risolto nulla Però adesso facciamo una cosa Ci riordiniamo per bene le idee Allora La chest qual è? Questa Posiamo dentro Una Due No Allora questa è rotta Quindi me la tengo Una Due Tre Posiamo questo piccone Mi tengo questo Questo qua Il lingotto lo poso perché Potrei farmi un'armatura C'ho solo due lingotti Qua ce l'ho l'armatura Ma ragazzi Io non me la voglio mettere Perché sono sicuro che la distrugge Io potrei usare Il throw away Questo piccone super potente Ma anche Anche La spada con looting È utilissima Però Ragazzi veramente Allora mettiamoci l'arco qua Queste le possiamo buttare Il carbone lo buttiamo Posiamo altre spade E io direi che Ecco Sono pieno Con questa No Con questa roba Possiamo provare l'avventura Adesso il mio obiettivo Prima di chiudere l'episodio È di salire in alto E distruggere quegli spawner Io devo distruggere Ragazzi Non mi interessa Adesso salgo in alto Con un pillarone E distruggo più spawner Possibile Ok Proviamo a salire qua Facciamo così Ok L'abbiamo buttato giù No Ecco Sono caduto giù L'idea però ci sta ragazzi L'idea funziona Bisogna solo affinarla E distruggergli spawner Perché sennò qua Non me la cavo proprio per niente Quindi Ecco adesso scendono tutti dall'alto Io qui avrei una farm Di esperienza infinita Ragazzi C'è proprio una roba assurda Che se avessi una Una Enchanting Potrei farmi Tranquillamente Guardate quanti sono No Ma che cagol vado Non vi potete buttare giù No Io dovrei fare un pillarone Che mi porti su Ma Questi qua mi danno proprio fastidio Checkingiamolo Ok ragazzi No no L'idea Funziona Perché ci sta Salire all'improvviso Però vi farei Magari Eh no Posso parlare di qua Perché non ho pietra Ok 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 Risolviamo subito ragazzi Vado a raccogliere pietra Siamo a 18 minuti Quindi direi che Quest'episodio può concludersi così Scusate per questo Traumatico Ritorno di sinusia Traumatico soprattutto per me Che ci sto giocando Ve lo giuro Dovrebbe essere il terzo episodio In cui cerchiamo di raggiungere Questa Eh Raggiungere Raggiungere questa lana E non sappiamo cosa fare Quindi raccolgo un po' di pietra Ragazzi Nel prossimo episodio Mi farò trovare direttamente pronto Con un bel po' di pietra E cercheremo di distruggere Quei pillaroni Cioè di fare dei pillaroni Per distruggere gli spawner Che da là sopra Danno fastidio Perché da giù Abbiamo praticamente Come dico io Bonificato tutto Ma ci rimane da distruggere gli spawner Qui c'è questo qua Che ci vende L'armatura Super power Ma io Di diamanti Proprio non ne ho neanche L'area La visione L'insieme Quindi direi di chiudere Questo episodio Perché è veramente Venuto lunghissimo Da Dicorei 25 È tutto Questo video Avrà probabilmente Nessun taglio Ma Mi dispiace Ma questo è il ritorno Di sinusia ufficiale Poi integrerò io Vedrò io Come integrare sinusia Perché Attualmente Universe è in manutenzione Quindi non so Se potrò garantirvi L'episodo di lunedì universe E non so se questo uscirà Venerdì o lunedì Comunque Da Dicorei 25 È tutto Lasciate un like Un commento Ed iscrivetevi Supportate questa E tutte le altre mie serie Condividete il video E alla prossima ragazzi Good luck ragazzi Ciao ciao Ciao